Ciao a tutti e bentornati su Flash Trend Ita. Come state? Oggi vi parlo di una coppia amatissima nata a uomini e donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi. Ospiti a Verissimo, i due hanno annunciato una notizia davvero emozionante. Si sposano! Scopriamo insieme tutti i dettagli della loro intervista con Silvia Toffanin. Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, una delle coppie più seguite di uomini e donne, sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo e hanno condiviso un annuncio speciale. Convoleranno a nozze il 31 ottobre 2024. La scelta di una data autunnale ha sorpreso tutti, ma Lorenzo ha spiegato che preferisce evitare i mesi estivi perché non ama il caldo. Con il suo solito umorismo ha detto «vorrei che i miei invitati venissero al mio matrimonio con sciarpe e guanti. Sarà un matrimonio un po' natalizio». La coppia ha ripercorso il loro viaggio d'amore iniziato nel 2019 a uomini e donne. Dopo essersi conosciuti durante il programma di Maria De Filippi, si sono innamorati, hanno iniziato a convivere e nel 2022 sono diventati genitori della piccola Maria Vittoria, un amore che ha cambiato la vita di entrambi. Lorenzo, visibilmente emozionato, ha confessato «non pensavo esistesse una donna così». Se non avessi incontrato Claudia, non so se sarei mai diventato padre. Un momento davvero toccante che ha commosso tutto il pubblico presente». Durante l'intervista, Claudia ha rivelato che dopo il matrimonio vorrebbero allargare la famiglia e avere un altro bambino. «Silvia, ci hai portato fortuna l'ultima volta. Mandaci un altro in bocca al lupo anche per questa volta». La maternità ha trasformato Claudia, che ha spiegato di essere diventata più affettuosa e meno chiusa grazie alla piccola Maria Vittoria. Lorenzo ha colto l'occasione per leggere una lettera d'amore a Claudia, ribadendo quanto sia importante per lui e quanto la consideri la colonna portante della famiglia. «Ehi, ricordati di iscriverti per non perderti i prossimi video». Nella lettera, Lorenzo ha detto «La nostra piccola Mavi è la prova che possiamo creare qualcosa di meraviglioso insieme. E tu, per me, sei un sogno che si realizza. Ti amo, tuo marito, Lorenzo». Un momento ricco di emozione che ha scaldato il cuore di tutti. Cosa ne pensate di questo annuncio? Siete curiosi di vedere le nozze di Claudia e Lorenzo? Lasciate un commento per fare i vostri auguri a questa splendida coppia. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui nostri prossimi video. Un abbraccio e ci vediamo presto con nuove storie interessanti qui su Flash Trend Ita. Ciao e a presto!